Sono passati 400 anni, dalla cacciata della cazzata del Moreno Giovanni. La Repubblica governa su molti popoli, ma non sa governare molti popoli. La città sa governare, ma non sa governare. Il potere è condiviso e l'ordine è viso. Nyeo e nye nye nyeo caca e Pompeo magna la lasagna una volta all'anno. Il legionario Tito Pullo è un tolo della tredicesima legione. Non, ma guardatelo adesso. La giustizia non guarda in faccia a nessuno. I rissosi verranno fustigati. I ladri verranno strangolati. Strangolore. Ho comprato un cavallo. Davvero? Ho comprato il miglior cavallo di Roma. Davvero? Perché? Non pensarci più, smettila. Ti prego, non mi parlare di cavalli, sai che mi annoiano. Cavallo. Vecchia gallina triste. Molto bene, cacone. Vieno di fettura di merda, come sempre. Cesare. È stato sempre Cesare. Ed è il popolo che governa, non il popolo. Perché? Signore, io le voglio chiedere se è qui in qualità di sostenitrice del movimento oppure in qualità di curiosa? No, di sostenitrice del mantenimento. È sostenitrice del mantenimento? Sì. È una persona che ispira fiducia. Va bene? Ispira fiducia? Sì. Scopo che ora è della prigia di crisi di crisi sommia. It's notico che non ci dic distance su womanismia. Naturalmente non ci courte. Ma oggi, è il ritro ignorante. E'il